Numero 5. La macchina da caffè automatica De Longhi Rivelia è un vero gioiello della tecnologia. Con una capienza del serbatoio acqua di 1,4 litri e una pressione di 19 bar, offre ben 16 bevande diverse tra cui espresso, americano e caffè freddo. Dotata di un grande display a colori full touch e di un cappuccinatore automatico, permette di regolare la quantità di schiuma di latte. I doppi contenitori per chicchi con tappo ermetico garantiscono freschezza e praticità. Una scelta eccellente per amanti del caffè che cercano versatilità e qualità. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 4. La macchina da caffè De Longhi La specialista arte è un gioiello per gli amanti del caffè macinato. Con una pressione di 15 bar e una capacità del serbatoio di un litro e mezzo, garantisce prestazioni elevate. Grazie alla regolazione della temperatura e della macinatura, ogni tazza è personalizzabile. Include un bricco per il latte e un pressa caffè professionale. Tuttavia, non accetta cialde. Con funzioni come l'autospegnimento e allarmi vari, è una scelta robusta per la cucina. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 3. La macchina da caffè di De Longhi Ness Café Dolce Gusto Genio S incanta con la sua pressione di 15 bar e una potenza di 1460 Watt. Capacità di regalare bevande calde e fredde, personalizzabili e pronte in soli 30 secondi. La macchina si spegne automaticamente dopo un minuto di inattività. Il serbatoio ha una capacità di un litro e funziona esclusivamente con capsule Ness Café Dolce Gusto. Dotata di funzioni pratiche e dimensioni compatte, è ideale per ogni cucina. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 2. De Longhi Magnifica S è una macchina da caffè che eccelle in versatilità e personalizzazione. Grazie al cappuccinatore manuale, permette di regolare la cremosità della schiuma di latte, mentre le numerose impostazioni consentono di creare il caffè su misura. Con un serbatoio da 1,8 litri, una pressione di 15 bar e un design elegante, è perfetta sia per espresso che per caffè lungo. Funzioni come autospegnimento e decalcificazione automatica rendono l'uso quotidiano pratico e piacevole. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 1. La De Longhi Dynamica Plus è una macchina da caffè che unisce eleganza e funzionalità. Con una pressione della pompa di 19 bar e una capienza d'acqua di 1,8 litri, offre una vasta gamma di 12 bevande, inclusi flat white e coffee pot. Perfetta per gli amanti del caffè, garantisce una schiuma di latte densa a temperatura ideale. Si gestisce comodamente tramite app e il suo display a colori con pulsanti touch rende l'uso intuitivo. Accessoriata con misurino, decalcificante, filtro acqua e pennellino per la pulizia. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!